Il fuoco è che come tutti i soccorritori hanno fatto un lavoro incredibile, perché passate le prime ore non bisogna dimenticarsi che in futuro bisogna aiutare questi ragazzi a essere sempre più e sempre meglio organizzati. Quindi da ministro devo rispondere coi fatti e quindi con 1500 assunzioni straordinarie di vigili del fuoco entro l'anno e poi è giusto andare a portare una piccola voce di sostegno a parte del popolo italiano anche ai parenti di chi non c'è più. Ecco, con Gianluca c'era un collega, 35 anni, lascia una moglie e quattro bambini piccoli. Si prevedono aiuti per queste famiglie? La famiglia ieri era disperata? Certamente sì, certamente sì, da tutti gli enti pubblici. Ed è per questo che quando tocchi con mano questa sofferenza suonano come incredibili, fredde, lontane, burocratiche. Le parole dei responsabili delle aziende che hanno portato a questo disastro, che si occupano di penali, di risarcimenti, di concessioni, di cavilli burocratici. Ecco, faccio appello al buon cuore, se qualcuno ce l'ha, delle aziende interessate, autostrade in primis, perché dia un segnale immediato, concreto, tangibile, anche economicamente parlando, alle famiglie dei morti e dei feriti. Poi parleremo di concessioni, di penali. Fossi in loro, farei un bagno di umiltà, in attesa delle sentenze, metterei a disposizione tutto quello che ho, delle famiglie, di chi è rimasto in vita e di chi non c'è più, degli enti locali. Se ieri il governo ha stanziato in immediato 5 milioni, fossi nei responsabili di società autostrade, anche per tutelare i miei azionisti metterei su quel tavolo 500 milioni per gli interventi a sostegno dei morti e dei feriti e della comunità di Genova. Quindi spero che la smettano col burocratese, mettano mani al cuore e al portafoglio. E poi riparleremo di concessioni. Sicuramente un gesto di intelligenza e generosità da parte loro sarebbe ben recepito da parte del governo e degli italiani. Non aspetteremo i tempi della giustizia, detto il Premier. Lei la condivite questa frase? Ci sarà una sentenza per via giudiziaria, c'è un'evidente sentenza della città e del mondo. È crollato un ponte che fino all'altro ieri ci dicevano essere in totale sicurezza. Ci sono dei responsabili, dovranno esserci dei responsabili. Ripeto, faccio appello in questa giornata di metà agosto che passo all'interno dell'ospedale San Martino di Genova, agli amministratori di società autostrade, smettetela di cavillare e aprite il portafoglio per i morti, per i feriti e per la comunità di Genova. Per un anno a casa ci saranno dei fondi del governo? Penso assolutamente anche a loro, ci saranno fondi del governo, del Comune e della Regione. Però siccome l'anno scorso Autostrade per l'Italia ha fatto un utile di più di un miliardo di euro, penso che se si toglieranno di tasca, soprattutto i grandi, quelli che poi fanno lezioni agli italiani, una parte di questo miliardo di euro in minimo risarcimento economico, sociale e morale del danno che hanno causato, saremo tutti più sereni a ridiscutere di burocrazia e di concessioni. Se non lo faranno evidentemente c'è poco da discutere. Avete un'idea più definita del numero dei dispersi? Non siamo al mercato. Io fossi un amministratore di Autostrade per l'Italia, oggi sarei qua, avrei aperto il portafoglio ben ricco dell'azienda, devolvendo alcune centinaia di milioni di euro ai danneggiati da questa vicenda. E poi parleremo di concessioni. Se dall'altra parte l'unica dichiarazione che si fa è se interrompete ci dovete pagare, viviamo su due pianeti diversi. Noi viviamo sul pianeta Terra. Oggi li sentirò. Però, ripeto, per correttezza, dignità e generosità mi aspetto un segnale concreto fin da subito. Poi sono disponibile a chiamarli già oggi. Avete un'idea più definita del numero dei dispersi? No, ci sono supposizioni, ma è inutile metterli in numeri a caso. Purtroppo il bilancio delle vittime aumenterà. Questo è prevedibile. Saremo qua sabato mattina. Sono a disposizione feriti le famiglie di chi non c'è più, gli sfollati, l'impegno del Comune e della Regione che tutti abbiano un tetto entro quest'anno. Ripeto, gli enti pubblici fanno e faranno tutto quello che è nelle loro disponibilità. C'è un privato responsabile di questo dramma che ha portato l'immagine di generale d'Italia in tutto il mondo, che ha incassato un utile netto di un miliardo di euro l'anno scorso. Una parte di questo utile netto pensa sia giusto reinvestirlo subito in città. Ma faccio un esempio molto concreto. Io fossi un amministratore di autostradio per l'Italia, avrei sospeso il pagamento per il pedaggio in alcuni caselli, ma già dall'ora successiva. Cioè in questo momento le ambulanze pagano il pedaggio su quell'autostrada. Ma di cosa stiamo parlando? Ma dove hanno il cuore, dove hanno il cervello certe persone? Quindi mi aspetto che oggi, 16 agosto, venga sospeso il pagamento del pedaggio. Quanto meno diano un segnale di buona volontà. Hanno incassato 3 miliardi e mezzo di euro l'anno scorso dal pagamento dei pedaggi. Visto il disastro che hanno causato, penso che qualche settimana senza pedaggio potrebbero permettersi. Farete controlli e verifiche anche sul Ministero delle Infrastrutture, sulla Direzione Generale che doveva controllare quello che non è stato fatto negli anni passati? Sì, e purtroppo, o per fortuna, ci sono da controllare alcune migliaia di infrastrutture. Ci sono da controllare alcune migliaia di infrastrutture, quindi non abbiamo bacchette magiche. Sono già partiti nelle scorse ore dei controlli su alcune infrastrutture pubbliche e private. Speriamo, metteremo in sicurezza quelle più critiche, subito alcune segnalazioni ci sono, senza nessun allarmismo evidentemente. Avete poi riviste anche altre concessioni simili a queste? Dal mio punto di vista va rivisto tutto. È giusto che il privato faccia utile, faccia business, perché è giusto che abbia un profitto, però è giusto che a fronte di questo profitto in evidente aumento su tanti fronti ci sia un altrettanto aumento in manutenzione e in sicurezza. Quindi non di sole autostrade stiamo parlando. Però oggi fatemi chiudere solo con Genova e con un pensiero ai feriti e ai parenti di chi non c'è più. Cosa risponde alla stampa straniera che accusa il governo di aver dato una risposta populista di polemiche? Non ho voglia e tempo per rispondere a sciocchezze polemiche. La prima in agenza per Genova è quella adesso di liberare il torrente perché ci avviciniamo a un momento di pioggia, questa è una forte difficoltà. Avete pensato a qualche trasforzo eccezionale rispetto a quello che è già lo sforzo nome che si sta facendo? Il fatto che la Procura non abbia sequestrato il tutto è un vantaggio perché stanno giorno e notte i Vigili del Fuoco lavorando per demolire le strutture crollate e quindi sarà un lavoro di qualche settimana però penso che da quel punto di vista la città sia e sarà in sicurezza. Comunque adesso vado a riportare il mio ringraziamento a chi sta ancora lavorando in cantiere.